A sette mesi dalla fine del mandato del sindaco Ucchielli, il Comune di Vallefoglia brucia le tappe e presenta il bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Un bilancio approvato nel Consiglio Comunale del 31 ottobre che fa di Vallefoglia uno dei comuni italiani più rapidi in questo senso amministrativo. Il risultato è il prodotto di un lavoro certosino fatto di conti in ordine e i benefici di nove anni di fusione comunale. Quest'anno grazie alla fusione, alle fusioni che ci sono state abbiamo un po' di respiri in più ci sembrava buona norma dare a 6-7 mesi dalla fine del mandato alla struttura la capacità piena non in dodicesimi di avere tutte le risorse disponibili per realizzare gli obiettivi. E in terzo luogo abbiamo avuto, grazie alla fusione, 3 milioni di avanzo di amministrazione 2022 abbiamo avuto circa una quindicina di milioni in questi nove anni sempre dalla fusione diciamo per i prossimi cinque anni chiunque governerà questa città, questo comune abbiamo avuto un milione e sei per cinque anni che vuol dire avere più serenità. Un bilancio di circa 15 milioni di euro, due terzi dei quali destinati a spese correnti in un equilibrio tra nuovi investimenti e accantonamenti. Il bilancio prevede, come è previsto dalla legge, tutti gli accantonamenti obbligatori e proprio grazie a questo e grazie al fatto che gli indici di bilancio sono congrui, sono a posto ci possiamo candidare, come dicevo prima, anche a finanziamenti di enti sovraordinati dallo Stato al finanziamento europeo e questo ci consente di poter liberare risorse sul fronte delle entrate correnti, delle spese correnti e delle spese per investimenti e da destinare risorse fresche da destinare a tutti gli interventi fatti nel territorio a partire dagli interventi soprattutto per la messa in sicurezza che ultimamente richiedono più risorse diciamo del previsto e ci ha consentito di mantenere negli anni anche il livello, come diceva prima il sindaco, di spesa sociale, spesa per la cultura che non è sempre scontato poter mantenere in questi anni perché purtroppo non essendo spese tecnicamente obbligatorie nei bilanci in difficoltà sono le prime a dover essere sacrificate. Lavoro sul bilancio che si trascina l'effetto positivo di estinzione di diversi mutui e di nuove risorse esterne. Ha avuto solo 2 milioni e mezzo sulla rigenerazione urbana, 1 milione e 2 per il nido, sempre fuori bilancio dallo Stato. Ci consentirà di fare 3-4 investimenti enormi, 2 milioni e 4 sul palastetto dello sport per portarla a 10 metri, 1500 posti, per consentire alla squadra di serie A femminile di fare i campionati europei qualora dovesse andare bene i campionati italiani ma anche di pallacanestro oppure, che so, diciamo 900 mila euro nelle mura castellane sempre dalla rigenerazione urbana col bordo, lo stiamo lavorando con l'università per Sant'Angelo col bordo del Montefarbi per rendere fruibile anche le grotte hanno già fatto anche dei preventivi, 900 mila euro sul fosso taccone, c'è un progetto di 3 milioni, speriamo di riuscire col Consorzio di Bonifica e con la Regione ad avere anche gli altri 2 milioni e poi circa una milionata sul contenimento energetico nel senso che tutte le lampade a LED, non c'è più una vecchia lampada che consumava il doppio di quelli che consumano queste, oltre che illuminano meglio, e poi diciamo sui trasporti scolastici, sulla spesa sociale, ecco, veramente siamo dopo 9 anni di governo date le risposte su tutte le cose più significative, il raddoppio del depuratore, il comune nuovo in legno, le scuole nuove quasi tutte in legno, tutte antisismiche, la piazza nuova e la ciliegina e la torta dopo aver ristrutturato il teatro branco a Sant'Angelo dell'Issola il nuovo teatro Giovanni Santi che si inaugurerà entro la fine dell'anno Ucchielli ha ricordato anche la compattezza amministrativa che ha portato al risultato di un bilancio approvato in Consiglio Comunale con un solo voto contrario Noi siamo in ordine, quindi possiamo lavorare fino alla fine della legislatura con molta tranquillità, serenità, noi, la parte politica, ma gli uffici soprattutto che devono realizzare gli obiettivi Grazie, grazie! Grazie a tutti